Ritmo è di carica Alte show, concetto è show Ritmo è di carica Ciao a tutti, buonasera! Grazie, grazie, benvenuti a concetto numero 1510 L'ultima volta che eravamo sul parco insieme era a Berlino ci sembra cosa carina di proporvi la tournée che abbiamo fatto la scaletta del tour che abbiamo fatto in Europa che è stato meraviglioso più una piccola serie di cover finali che ci sono preparate che siamo molto emozionati di fare comunque sia buon divertimento con la banda Bardo!